L'altro grande autore del film è la moglie, la seconda moglie di Wittland, la sceneggiatura del film era già assolutamente scritta, definita, consegnata all'Aufa. Fritz Lang sostiene di essere stato chiamato da Goebbels per prendersi guida della cinematografica. La sua dichiarazione ha detto che la sera stessa ha preso un treno per Parigi e fu ucciso da Parigi. C'è stato un piccolissimo tentativo da Parigi. Il piccolo creato di Sherlock Holmes e di Wittler, che è probabilmente, parlando di detection, cioè di investigatori privati in senso classico, cioè di giallo, non siamo ancora per parte di noi. Sherlock Holmes è misogino, come poi è un'erità che lascerà quasi tutti gli investigatori successivi. C'è stato un piccolissimo tentativo della Hammer Film, è stato passato qui ieri notte, il mastino dei Pascati, con Peter Cushing, che interpreta Holmes. Ciao! 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 Sì! Sì! Grazie a tutti.